Musica Eccoci qua spezzi con un nuovo video Questa volta andiamo su Never Give Up Never Give Up Ok, bene questo qui è un gioco tipo... Ci farà incazzare sicuramente però... Non dovremo mai arrenderci, cioè give up, va bene Allora, tastiera in mano Come si fa? Ok And your challenges are okay to go Opla Vabbè, se muoio qua... Ah boh, fuck you bitch, fuck you bitch Ah, stava sopra Oh, senti porco... Ok Can you jump, try jump... Doppio salto, i soliti gay Però, dai cazzo Figura in me? Devo dire che questo gioco l'ho trovato tramite i giochi flash che si fanno di solito Devo dire che subito mi ha entusiasmato dove aver provato Cut Mario E quegli altri Sempre con Super Mario che mi facevano girare talmente i coglioni che... Potevo usarli come roulette Quindi... Ah boh, ma qua dai, ah Ah ecco Mo' ci sono i... Gli... Gli... Chiamate gli ostacoli Sti quattro cose che escono da su C'è ma anche un paraplegico ci riesce... Ci riesce... Sì O muoio, ah O niente C'è basta fare un doppio salto qua Un doppio salto qua Oooo C'è cattu cattu Muoio, muoio No, non passa Qua è una cosa si fa più interessante Però diciamo che all'inizio dei primi dieci cose sono... Ne cazzata o immane Lo sono io che sono troppo bravo, non lo so Ma dai Did you know? Che cazzo sono? Marshmallow? Amo i Marshmallow Colpisci... Col... Cristo, morto Prima morte Sono proprio andato a schiantare contro quella merda che... Cioè i Marshmallow mi uccidono Non ho mai visto nessuno morire per dei Marshmallow Ma che cos'è? La vergogna po' Lasciami stare! Fuck you Marshmallow Floor 12 Arriviamo Double jumping is a good skill Fuck you Che cazzo è poi una radio che è? Una radio con un occhio Mo... Mo... Ditemi che ha inventato una radio... Si spara merda Dai, dai... Uuuu... 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 Mamma mia... Big! Ma... Oh! Ma che cresso è? L'avete visto? Minchia... No! Ma... Ah! Smetti di morire! Ok, ok... Ma non c'è... Ahhhh... Uuuu... Aaaaaaaa... Huuu... Someone like you... Ah be nothing... Waaan eeeaaaa... Fuuum Bah! Fuuum Bah! Dai! Uuuu... Uuuu... Ah... Orgasmica la cosa... Floor 15 Vabbè Dobbiamo per forza tenerlo perché altrimenti non so Mannaggia Dai 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 Marshmallow faccio Si calma calma Avevo fatto La Proprio big Avevo fatto una Vedi adesso subito i livelli si iniziano a fare Rompicoglioni E incazzosi Non mi amare vai You bro You spezzi 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 Allora Abbiamo 1 2 3 4 Ovunque Ovunque marshmallow Non mi avrai mai Non ho capito mai che è sossico Ecco Ci voleva 45 morti Lavativi C'è Combo breaker Combo breaker Dai dai Mani Oh 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 Dai spezzi Mi serve la vostra energia Voi 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 Allora Siamo al floor 18 Floor 18 E non siamo stanchi Non premeremo mai Give up Mai Never Never Questo marshmallow rompi i coglioni Boom Oh Gesù Cristo Come osi prendermi con un marshmallow Fuck you Fuck you marshmallow Boom è stupido come Dio proprio Fa un stato Mannaggia ho preso una camata Ma non mi sei la merda E cade E calla Boom Mamma mia Ma che è qua Ma che cazzo Gesù Cristo Quel nobile Oh no big 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 money Big Allora Ok Ok calma Morto Morto Gesù Boom 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 esploso Aiuto wow abusive change paying Larry lì 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 bank nì Ricomponiamoci Mamma mia! Big! Big! Eh, ma quello mi fotte sempre! Bom! Oh! Questa è la tecnica, la bitti tecnica Eve! Eh, ma non posso aspettare! Quello mi spara, porco... Porco Dio! Porco Dio! Por... 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 Deus Magnanimus! Eh, ma mi prende sempre! 87 morti! Non c'è nessuno! Uh! Tropi Marshmallow! Oh! 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 BAT! Oh! Oh! Oh, shh, 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 shh. Eh, eh, salve, sì, inti, siamo donani, inti, inti, no, io sono, sono calmissimo, devo dire la verità, non mi sono mai sentito così calmo in tutta la mia vita, devo dire che anche voi vi trovo in splendida forma. Devo dire che è stato, come dire, solo un caso che io mi sia arrabbiato così tanto in questo, in questa escursione. Quindi, beh, cosa dire, cosa dire, niente, niente. Devo, devo anche ringraziarvi perché questo non l'ho mai detto, che vi siete iscritti al mio canale, guardate i miei video, ma... Sicuramente a me non passa per il cazzo perché io voglio finire questo... 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 Ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo 104 morti. Come cazzo? Ma non sono morto! Ora sì. Boom. Combo breaker. Eh, qua non mi potete prendere, eh, marshmallow, figli di puttana. Ah, 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 spezzi, what's going on? Eh, sì, dai, adesso devi... Ecco. E ho detto tutto. Mannaggia il Gesù, mannaggia. Perché non sumpa due volte sto... Uh! Vabbè, qua se non faccio così... La madonna mi vuole male. Devo dire che... La cosa di questo gioco è che ti fa veramente girare i coglioni. Non sono morto! E... Stiamo a 12 minuti, però io non ho intenzione di finire questo video fin quando non... Fin quando quel bastardo... Quel bastardo non scende... Anzi, non sale, perché quello... Bastardo di Satana non sale. Fine qui. E mi finisce questo... Questo piano! Il pianoforte di Gesù non verrà mai consacrato! Vabbè, adesso sto del... Madonna schifosa. Peggio di quello di prima... No, quello di prima era il... Perché questo è stupido. Mannaggia puttana da madonna! Ma come faccio a morire? La prima... Pugamela stai. Ma non... quality worldwide a nationally for senty unione So crazy Ma come? Ma come? Devo dire che certe volte Quando? Devo dire che certe volte mi... Mi auguro che io non faccia mai Madonna puttana! Mi fate mo' una cortesia! Ma non si riesce a fare un cazzo in questo posto di merda? Non mi so... Donkelme! 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 Già no vabbè c'è Don... Tu sai come rendere la vita uno schifoso cane di G? Ma non mi so... Buu... 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 SOMEONE LIKE YOU.... Ehm, ne sono... ...che... ... NOOOOO! Sì dopo essermi sfogato speci It was a good try You gave it your best And the win is Is everything It's cool We are good You are okay Shut the fuck up Bene ragazzi dopo questo incazzamento Possiamo anche chiudere il video qui Come avete visto mi sono girato direttamente Mi vanno in fumo praticamente E Questa volta non vi voglio salutare Vi saluto Alla prossima Ciao Ciao Ciao